Sandro Ferrone ha presentato a Bologna la collezione autunno-inverno 2015-2016 e non poteva mancare Elena Santarelli, testimonial del noto marchio di abbigliamento romano, ma anche stilista, visto che ha disegnato una capsule collection. Un esperimento, come lo definisce lei stessa, che l'ha sicuramente divertita e che rafforza ancora di più il suo legame col brand. Ci tengo a ringraziare il signor Sandro Ferrone, perché mi ha fatto entrare in questa azienda come un'amica, come una persona di famiglia, non semplicemente come una testimonial, ha dichiarato Elena. E sono molto felice e soddisfatta di questo. Anche se dovessero cambiare testimonial nelle prossime stagioni, rimarrà sicuramente un rapporto di amicizia. Sono tre capi, precisa poi la Santarelli parlando della sua capsule collection, disegnare per Ferrone un piccolo esperimento da stilista imprenditrice, anche perché il corpo non potrà durare per sempre. Chi lo sa, magari un giorno, anche se non sarò più la testimonial del marchio, potrei lasciare un'impronta come stilista. Non è che voglio fare la stilista perché per farla bisogna studiare, ci sono delle scuole adatte, però mi piacerebbe se anche chi mi succederà come testimonial indossasse un abito che ho disegnato io.